gli ultimi sette giorni della vita di cristo messi in palco su musical sì in realtà questa prospettiva molto umana della storia di gesù scritta da tim rice e musicata da andrew loid webber nel 70 non ha confini e trova appunto nei ruoli nei personaggi interpretiamo questa visione molto umana della della passione di gesù arriviamo alla crocifissione quindi non c'è resurrezione ecco parliamo un po dei personaggi tu che interpreti io sono maria maddalena facciamo oppure parli un pochettino del tuo personaggio allora maria maddalena è un personaggio molto contorto si sa nella storia e qui viene dato l'interpretazione come amante donna innamorata di gesù io ho voluto dare anche un'interpretazione ancora più profonda forse ho visto in maria maddalena la prima credente nel messaggio di gesù al di là del rapporto d'amore che c'è fra i due ho immaginato che lei fosse una delle prime a credere nel suo messaggio quindi come se fosse un apostolo come se fosse una del 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 fan club di gesù questa diciamo la mia la mia la mia idea andrea tu sei pilato si ruolo un'eredità molto pesante perché prima di me ci sono stati ovviamente barry dennan che ricordiamo tutti con grande affetto amore e tantissimi altri artisti del panorama italiano tra cui paude in e grita mi piace ricordare emiliano geppetti che lo ha fatto per molti anni ci sono sei tantissimi claudio compagno christian ruiz l'eredità è pesantissima e ho avuto questa fortuna quindi grazie a massimo romeo piparo che mi ha scelto per questa edizione è un gran ruolo lui nello stesso tempo anche come maddalena come giuda è un personaggio molto controverso perché non è così superficiale come sai di solito si dice se ne lava le mani quindi è uno che non non approfondisce il messaggio in realtà e chi verrà a vedere lo spettacolo vedrà un pilato molto turbato quindi addirittura lui va in conflitto con se stesso perché pensando di fare la cosa migliore ossia lavandose nelle mani in realtà condanna a morte questo cristo io passo da questa parte così mi metto a fianco loro perché utilizzerò poi lui per le traduzioni giorgio invece tu chi sei io sono simone zelotas è un ruolo molto molto con tanta energia e insomma un po il rivoluzionario colui davvero con il sangue che ribolle vuole a tutti i costi smuovere gli animi e raggiungere quello che è il che lui dice appunto nella sua canzone il potere e la gloria con un atto di forza e io lo vivo proprio come un veramente un rivoluzionario con le armi tra i denti e in quel momento è la svolta del personaggio è proprio grazie a gesù che gli fa capire insomma che la chiave in realtà è tutt'altra storia e una canzone meravigliosa che naturalmente rimane una delle pietre miliari sicuramente di questa opera che è un sempreverde insomma invece nick è giuda traduci si mica il traditore maledetto tu parli in inglese puoi parlare in inglese facciamo tradurre a giordio e vai tranquillo come il tuo personaggio come è il tuo personaggio? la cosa più difficile da far passare al pubblico è che lui non è assolutamente d'accordo con quella che è l'azione e il pensiero di Gesù ma allo stesso tempo è la persona molto più vicina a lui insomma più vicina proprio con un affetto vero e profondo so it's really hard because that's what I said Judas is known as the traitor so I need to show the audience I need to win the audience in order for them to understand my point of view as well la cosa difficile è proprio far capire nonstante giuda sia visto come il traditore ma vincere il pubblico facendo capire il suo punto di vista proprio perché io aggiungo questo il Jesus Christ Superstar in questa sesura di Weber and Rice gira tutto intorno al punto di vista di giuda quindi è questa una magia una caratteristica importante no dimmi se sbaglio Andrea di questo spettacolo è veramente nasce e il filo conduttore è proprio giuda per far capire che tipo di tale si è trattato allo spettacolo possiamo definire uno spettacolo rock sì è una rock opera o anche rock musical per me è uguale con musiche che appartengono a un repertorio degli anni 70 si racconta la storia di Gesù come dicevi tu degli ultimi sette giorni ecco la versione diciamo questa qua italiana è portata in Italia questa qua firmata da Massimo giusto è tipo 22 23 anni tantissimi anni che viene portata in scena sì ormai è il detentore assoluto insomma è veramente un grazie particolare a Massimo Romeo Piparo che ha avuto una costanza e una forza e sempre un coraggio portare avanti un progetto così ambizioso che però possiamo dire che riesce sempre a vincere perché oltre alla grande squadra che Massimo è riuscito a costruire negli anni è un team veramente incredibile e noi possiamo darne testimonianza perché noi tre siamo gli ultimi arrivati insomma quindi per noi lavorare in un team così è davvero un onore però oltre a questo c'è un masterpiece che è proprio il Jesus Christ Superstar che credo che sia veramente scolpito negli occhi nelle coscienze di tante generazioni ormai perché veramente riesce a coprire forse quattro generazioni io ripasso dall'altra parte piano 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 spettacolo musical che ha veramente grande successo parliamo di numeri enormi tipo un milione e duecento più di un milione e duecento mila persone che hanno visto lo spettacolo più di mille trecento messe in scena sì questo per quanto riguarda la nostra edizione quella firmata Massimo Romeo Piparo se consideriamo che Ted Neely ne ha quasi sei mila sulle spalle a 75 anni insomma i numeri sono ancora di più questa di Massimo in particolare la nostra che dovrebbe essere da tutti si aspettano in italiano invece no per fortuna questa è un'altra sfida di Massimo che ha voluto portare avanti il messaggio nella veste originale ossia in lingua inglese tutti noi recitiamo e cantiamo in lingua inglese perché è una rock opera appunto e nonostante ciò anche in Italia il pubblico fa sold out riempie i teatri quindi noi siamo orgogliosissimi di questa cosa secondo te qual è il punto forza dello spettacolo? beh il punto di forza penso siamo all'unanimità tutti d'accordo su Ted Neely lui è il vero trascinatore senza di lui diciamo oddio sicuramente in passato è stato affrontato il ruolo anche da altri validissimi artisti alcuni sono con noi quindi però Ted diciamo ecco incarna un po' per noi è il mito ovviamente il mito vivente poi bisogna venire al teatro a vederlo per capire perché tanti sono scettici ma ce la farà non ce la farà venite poi vedete se ce la fa penso perché il ruolo di Annas nell'attuale versione è interpretato da Pari da Caccia che per molti anni ora non mi ricordo precisamente quando 20 anni mi suggeriscono ha interpretato in questa produzione il ruolo di Gesù c'è questo aneddoto famoso di Paride dove lui dice che avrebbe rinunciato al ruolo di Gesù soltanto nel momento in cui si sarebbe presentato di persona Ted Neely ed è successo però l'ha fatto penso con gran piacere ecco ma dopo Torino ci sono altre date dove girerete l'Italia? sì allora abbiamo Vicenza, Varese, Catania, Roma, Milano, Genova e poi a marzo-aprile ripartiamo in Europa, l'Olanda un riferimento per trovare tutte le date? eh no no vai sono più ferrato sul web allora il nostro sito è www.jesuschristsuperstar.it slash date più preciso di così non potete always ragazzi grazie tante e invoca lupo per stasera grazie a voi crepi lupo grazie grazie